andiamo a vedere come si risolvono le disequazioni di questo tipo ax che è un'espressione, può essere un polinomio di un certo grado in valore assoluto minore di k con k positivo per esempio una disequazione che rientra in questa categoria è valore assoluto di x minore di 10 ora che vuol dire valore assoluto di x minore di 10? che il modulo di x deve essere più piccolo di 10 quindi al di là del segno sono tutti i numeri fino a 9 in un certo senso quindi diciamo così che tutti i valori compresi tra meno 9 e 9 soddisfano questa disequazione perché il valore assoluto di tutti i numeri tra meno 9 e 9 è più piccolo di 10 quindi dobbiamo in un certo senso trasformare la disequazione in valore assoluto di questo tipo in una disequazione senza valori assoluti ragionando appunto sul significato di valore assoluto allora se x è positivo il suo valore assoluto coincide con x e quindi quella disequazione in valore assoluto di x minore di 10 questa qua equivale a x minore di 10 e quindi la soluzione è quasi immediata x minore di 10 se invece x è negativo il valore assoluto quindi torniamo sempre qua se x è negativo il suo valore assoluto coincide con meno x quindi che vuol dire meno x minore di 10 vuol dire x maggiore di 10 eccolo qua x maggiore di meno 10 perché devo cambiare segno quindi meno x minore di 10 vuol dire x maggiore di meno 10 ora quindi io ho le soluzioni x più piccolo di 10 se x è positivo x compreso tra meno 10 e 0 se x è negativo l'unione di queste due soluzioni mi danno praticamente questa che è il valore assoluto di x più piccolo di 10 quando x è compreso tra meno 10 e 10 un po' come l'esempio che avevo fatto col 9 ragionando ovviamente solo su numeri interi quindi il valore assoluto di a di x minore di k con k positivo equivale a risolvere equivale insomma la soluzione equivale a questa quindi io passo da una disequazione in valore assoluto di questo tipo a una disequazione in valore assoluto senza valore assoluto di quest'altro tipo che equivale a questo sistema per esempio facciamo questa x quadro vediamo questa x quadro meno 9 minore di 7 vuol dire in base a diciamo a quanto detto prima che x quadro meno 9 deve essere compreso tra 7 e meno 7 eccolo qua ma questo equivale a due disequazioni x quadro meno 9 minore di 7 e meno 7 minore di x quadro meno 9 quindi si tratta di andare a vedere quali sono i valori che contemporaneamente stanno tra meno 7 e 7 i valori chiaramente di x quadro meno 9 quindi vado a vedere risolvo questo sistema quindi x quadro meno 9 minore di 7 e x quadro meno 9 maggiore di meno 7 quindi ricordiamoci queste sono due disequazioni che equivalono a questo sistema si fa il sistema perché devono essere soluzioni che contemporaneamente soddisfano queste due condizioni quindi che si fa il 9 si porta dall'altra parte quindi viene 9 più 7 viene 16 oppure il 7 si porta da quest'altra parte quindi x quadro meno 16 minore di 0 e quando il 9 viene da questa parte c'è x quadro maggiore di 2 o x quadro meno 2 maggiore di 0 allora questa che equivale questa è una parabola ricordiamoci che x quadro sono sempre parabole quando chiedo quando la parabola sta sopra lo 0 sopra l'asse x e c'è il delta negativo vuol dire soluzione esterna quindi dopo il più grande prima del più piccolo quando invece la parabola sta sotto l'asse x con il delta maggiore di 0 e quando è compreso tra i valori dell'equazione associata meno 4 4 vado a rappresentare in un grafico le soluzioni delle due disequazioni quindi x quadro meno 2 maggiore di 0 questa qua vuol dire prima del più piccolo dopo il più grande x quadro x quadro meno 16 minore di 0 vuol dire tra meno 4 e 4 ecco il qua quindi queste sono le soluzioni della prima queste sono le soluzioni della seconda quali sono i valori che ci vanno bene sono quelli contemporanei quindi tra meno 4 e meno radice di 2 e radice di 2 e 4 quindi contemporaneamente i due valori vediamo anche come si poi facciamo l'esempio vediamo anche come si risolve la disequazione l'altro tipo quindi quando il valore assoluto è maggiore di k con k positivo ovviamente al contrario di quell'altra quindi quando il valore assoluto di x è maggiore di 8 quando prendo il numero gli tolgo il segno quello che viene senza segno è più grande di 8 quindi vuol dire x minore di meno 8 e x maggiore di 8 quindi anche in questo caso i due sistemi sono questi se x è positivo il valore assoluto coincide con se stesso diciamo così quindi è x maggiore di 8 se x è negativo il valore assoluto è meno x e quindi sarà x minore di meno 8 perché meno x deve essere maggiore di 8 e quindi x minore di meno 8 quindi contemporaneamente le due soluzioni daranno come soluzione equivalente questa qua quindi ad x maggiore di k vuol dire prima di meno k dopo k anche qui c'è l'esempio x quadro meno 6 maggiore di 6 vuol dire che devo essere fuori l'intervallo 6 meno 6 quindi x quadro meno x minore di meno 6 e x quadro meno x maggiore di 6 sono due disequazioni molto semplici di secondo grado quindi in questo caso se guardiamo come è fatta per esempio la prima disequazione questa c'è un delta negativo eccolo qua delta negativo e quindi è una parabola che sta alla concavità verso l'alto chiedo quando è negativa ovviamente mai perché non incrocia mai l'asse x e quindi deve stare tutta sopra e quindi la disequazione non è mai verificata quindi la risolviamo possiamo anche risolverla graficamente questo invece il delta invece in questo caso è positivo quindi tocca l'asse x in due punti questa parabola voglio sapere quando è positiva quindi dopo il più grande prima del più piccolo quindi se questa non è mai verificata la prima disequazione e la seconda disequazione è verificata solo quando x è maggiore di 3 e x minore di 2 quindi qual è la soluzione complessiva è x minore di 2 e x maggiore di 3 prima di cominciare le equazioni e disequazioni razionali andiamo a fare degli esempi il primo che facciamo è proprio questo quindi andiamo a risolvere diciamo questa disequazione poi ne facciamo un'altra quindi andiamo a prendere un foglio bianco e andiamo a risolvere questa quindi noi abbiamo la disequazione valore assoluto di x quadro meno 1 maggiore di 3 quindi fa parte del del gruppo diciamo così valore assoluto di a di x maggiore di k come si risolve questa? devo fare a di x maggiore di k quindi a di x maggiore di k e a di x minore di meno k quindi devo risolvere x quadro meno 1 maggiore di 3 cioè x quadro maggiore di 4 e x quadro meno 1 minore di meno 3 cioè x quadro questo 1 va da questa parte minore di meno 2 allora questa è facile quindi qua non esistono soluzioni per quale motivo? perché il quadrato di un numero positivo il quadrato di un numero è sempre un numero positivo e non può essere mai più piccolo di un numero negativo quindi questa non ha soluzione vediamo invece questa x quadro maggiore di 4 se la guardo un po' graficamente x quadro è una parabola è fatta così passa allo 0 4 sta qua quando la parabola sta sopra 4 dopo questo valore che qui c'è più 2 quindi faccio la radice e prima di meno 2 quindi le soluzioni sono x minore di meno 2 e x maggiore di 2 andiamo a vedere se coincidono con le soluzioni del libro eccola qua x minore di meno 2 e x maggiore di 2 andiamo a vedere un altro tipo di disequazione vediamo questa quindi memorizziamola e portiamola sul foglio bianco per risolverla quindi questa qua quindi la copiamo possiamo anche fare un foglio bianco mettiamo qua e risolviamola allora cos'è che abbiamo abbiamo un rapporto tra due espressioni maggiore o uguale a 0 quindi è come se diciamo avessi un numeratore in funzione di x diviso un denominatore in funzione di x maggiore o uguale a 0 quindi devo andare a vedere quando il numeratore di x è maggiore o uguale a 0 e quando il denominatore di x è maggiore di 0 e fare poi vedere quando contemporaneamente hanno lo stesso segno allora cominciamo a risolvere 3 meno valore assoluto di x meno 1 maggiore o uguale a 0 questo equivale a x meno 1 in valore assoluto minore o uguale a 3 x meno 1 in valore assoluto minore o uguale a 3 equivale a dire che x meno 1 deve essere compreso minore o uguale a 3 e meno 3 ora quest'uno lo porto da parte a parte e quindi c'ho 1 meno 3 minore o uguale a x minore o uguale a 3 più 1 cioè x compreso tra 4 e meno 2 quindi questa è la soluzione del numeratore maggiore di 0 vediamo il secondo cioè il secondo il denominatore x quadro meno 16 maggiore di 0 ora il valore assoluto di un numero è sempre positivo quindi questo è per ogni x tranne che per i valori che l'annullano quindi devo porre semplicemente x quadro meno 16 diverso da 0 cioè x diverso da più o meno 4 quindi ricordiamoci che x quadro meno 16 maggiore di 0 non vuol dire x quadro meno 16 maggiore di 0 perché il valore assoluto di un qualsiasi cosa è sempre positivo tranne quando assume il valore 0 adesso incrociamo le soluzioni quindi io ho meno 4 meno 2 4 quindi il numeratore quando è positivo tra meno 2 e 4 quindi qua il numeratore è positivo qua è negativo qua è negativo qua è negativo quando il denominatore è positivo sempre tranne i valori meno 4 e 4 quindi per capire che meno 4 e 4 vanno esclusi io ci metto un cerchietto vuoto meno 2 invece va compreso quindi posso metterci anche il cerchietto pieno perché qua c'è l'uguale quindi complessivamente qua è negativo qua è negativo qua è positivo qua è negativo vuol sapere la disequazione quando è positiva eccola qua è positiva qua quindi la soluzione è x meno 2 minore o uguale a x minore di 4 quindi questa è la soluzione della mia disequazione in questo caso è una disequazione fratta dove contemporaneamente ciò ha anche delle disequazioni del tipo che abbiamo visto prima cioè a di x maggiore di k e a di x sempre in valore assoluto minore di k pa